la tua mamma ti porterà all'ospedale e la rimarrai sola la madonna a giacinta dopo l'ultima apparizione della madonna il cielo non si era chiuso del tutto per i tre fanciulli le apparizioni ufficiali erano terminate ma non l'intimità familiare della vergine con i suoi piccoli amici della cova da iria già parlammo delle apparizioni particolari a giacinta e a francesco quando i due fratellini stavano sul letto dei dolori con giacinta però la vergine non si accontentava di alcune visioni fugaci con lei si conversare più a lungo giacinta era la più piccola e quella che la madonna avrebbe forse più abbondantemente colmato di grazie la corrispondenza ai doni e favori di dio è uno dei più meravigliosi misteri d'altro lato le grazie straordinarie non sempre corrispondono al grado di perfezione che un'anima possiede in modo che registrando queste predilizioni della mad vergine con la più piccola dei tre veggenti non vogliamo affatto supporre e nemmeno suggerire che lucia e francesco fossero meno generosi o meno pronti all'influsso del soprannaturale i fatti che lucia riferisce a proposito dei cugini insieme a quanto sappiamo da altra fonte sul conto di lei protagonista principale nelle apparizioni ci portano a questa conclusione tutti e tre con egual fervore con tutto lo sforzo possibile e molte volte con sforzo superiore alle capacità fisiche e morali di un fanciullo lucia la più anziana aveva solo dieci anni cercavano di tradurre in penitenze eroiche la loro corrispondenza ai favori celesti giudichiamo convenienti queste osservazioni prima di parlare della malattia di giacinta e della sua santa morte nell'ospedale di dona e stefania di lisbona per ammettere indebitamente in secondo piano le altre due figure della cova da iria ripetiamo che tutti e tre meritano la stessa considerazione le stesse lodi la morte di francesco causò un'impressione desolante in lucia e più ancora in giacinta seduta sul letto con la fronte ardente per la febbre la piccola passava ore ed ore nella più profonda malinconia quando la mamma o la cugina le domandavano a che pensi giacinta penso a francesco rispondeva quanto desidero vederlo ma non era solo il ricordo di francesco che la rattestava così giacinta pensava anche alla guerra all'inferno e a tante altre cose tristi che la vergine le aveva mostrato penso la guerra che deve venire diceva lucia moriranno molti e tanti andranno all'inferno saranno distrutte molte case uccisi molti sacerdoti senti io vado in cielo e quando vedrai di notte quella luce di cui parlò la signora che precederà questi fatti fuggi anche tu lassù non vedi che non ci si può rifugiare in cielo rispondeva la cugina è vero non puoi ma non aver paura io in cielo però molto per te per il santo padre per il portogallo perché la guerra non giunga qui e per tutti i sacerdoti come quando era vivo il cugino lucia non tralasciava giorno senza andare in casa di marto il papà di francesco e giacinta tutto il mio tempo libero scriveva lucia dopo la scuola e gli altri piccoli impegni lo passavo vicino a lei la malata soffriva molto eccetto alcuni giorni in cui aveva lievi miglioramenti giacinta non aveva più abbandonato il letto dagli ultimi giorni di ottobre dell'anno precedente il 1918 dopo la broncopolmonite le si formò nella pleura una specie di ascesso purulento che la faceva soffrire intensamente la piccola eroina sopportava tutto quel martirio con una rassegnazione un'allegrezza che stupivano alla mamma che si mostrava tanto triste al vederla penare diceva non rattristarti mamma io vado in cielo la pregherò molto per te non piangere io sto bene subito dopo tuttavia confidava a lucia non voglio che tu dica ad alcuno ciò che soffro neppure alla mamma perché non voglio che si rattristi nei più lancinati dolori dimenticava totalmente se stessa per pensare agli altri povero piccolo fiore pochi mesi prima nell'esuberanza della vita ora povera creaturina senza vigore sull'orlo della tomba il medico curante vista la gravità del caso e l'insufficienza dei mezzi di cura consigliò ai genitori di ricoverarla all'ospedale di vila nova de orue giacinta sapeva che la cura nell'ospedale non l'avrebbe restituito la salute ma sarebbe servita solo ad aumentare le sofferenze perciò accettò lietamente di andare a vila la avrebbe sofferto molto così avrebbe consolato tanto il cuore della sua mamma del cielo andrà in due ospedali le aveva detto la buona signora della cova d'airia ma non per guarire è per soffrire maggiormente per amore di dio per la conversione dei peccatori in riparazione delle offese commesse contro il mio cuore immacolato tanti motivi le rendevano consolante l'andata all'ospedale avrebbe sofferto molto di più che non a casa ma ecco subentrare un pensiero che le martirizzava il tenero cuore all'ospedale sarebbe mancata lucia la sua amica come avrebbe potuto star là senza di lei la tua mamma ti porterà all'ospedale le aveva detto la vergine e la rimarrai sola soffrire sì soffrire molto ecco il tuo ideale ma soffrire in compagnia di lucia gesù nell'orto degli olivi sentiva pure la stessa amarezza di soffrir solo per tre volte interruppe la sua orazione per andare a mendicare la compagnia degli apostoli vegliate e pregate con me non avete potuto vegliare un'ora con me non ci meraviglia dunque trovare nel cuore tanto affettuoso della fanciulla questa stessa sensibilità se tu fossi con me ciò che più mi costa è andarla senza di te diceva alla cugina probabilmente l'ospedale è una casa molto oscura dove non si vede niente io starò là a soffrire così sola così doveva essere nei primi giorni di luglio timarto sollevava dal letto il corpicciolo macilento leggero come piuma lo accomodava con delicatezza e cura sopra l'asina e partiva verso vila il trattamento a cui la sottomisero fu rigoroso ma non valse nulla per giacinta furono due mesi di puro martirio eccettuati i due giorni in cui la cugina andò a visitarla quando la vide presso di sé la abbracciò con la maggior tenerezza e chiese la mamma che le lasciasse sole la trovai racconta lucia con la stessa gioia di soffrire per amor di dio e del cuore immacolato di maria per i peccatori e per il santo padre era il suo ideale era ciò di cui parlava l'ospedale però non era una casa oscura dove non si vedeva niente era un edificio grande chiaro tutto bianco l'infermeria ove giacinta fu messa era piena di luce soffri giacinta le domandava lucia si molto ma per la conversione dei peccatori e per il santo padre e continuava mi piace tanto soffrire per amore di gesù e di maria essi sono molto contenti di chi soffre per la conversione dei peccatori ciononostante lucia era lucia e non vi era nessuno che la potesse sostituire il tempo della visita fuggiva rapidamente la strada di fatima era lunga e non si poteva prolungare la visita lucia partiva con la zia olimpia verso sera e lasciava giacinta immersa nella più pungente nostalgia alla fine di agosto siccome la cura non dava nessun risultato e la retta mensile era incompatibile con le possibilità della famiglia marto fu deciso che la piccola giacinta tornasse a casa la malata aveva nel petto una piaga aperta che doveva essere medicata ogni giorno non tanto per salvarla quanto per prolungarle la vita come si poteva facilmente prevedere nel rustico villaggio di agli ustrel mancavano del tutto infermiere e materiale sanitario adeguati ad una medicazione tanto delicata la ferita si infettò ed il pus allagava il petto della povera fanciulla che deperiva di giorno in giorno in questo stato la trovò nel mese di settembre la signora maria da cruz lopez la malattia minava già il suo debole corpo che avvolto in una sottana nera di flanella ricordava con la sua figurina esile macilenta le rondinelle emigranti che agitando le ali si dirigono con volo alto verso le regioni ove non giunge il vento glaciale stava in disparte con aria modesta e raccolta le diedi un ventino che accettò la fanciulla è scheletrita le braccia sono d'una magrezza impressionante dopo l'uscita dall'ospedale di villanova de aurem ove per due mesi è stata curata senza risultato va consumandosi per la febbre il suo aspetto ispira compassione la tubercolosi dopo un attacco di broncopolmonite ed una pleurite purulenta minaccia aspettatamente il corpicciolo solo un adeguato trattamento in sanatorio potrebbe forse salvarla ma i genitori benché non poveri non possono far fronte alle grandi spese che questa cura richiede bernadetta l'umile fanciulla di lourdes che si degnò a parirle nella grotta di massabiel la promessa che l'avrebbe fatta felice ma non in questo mondo avrà la vergine fatta l'identica promessa alla pastorella della sera di minde a cui comunicò un segreto che la veggente a nessuno può rivelare così le sofferenze di giacinta sopportate con rassegnazione cristiana saranno per lei fonte di meriti che renderanno più splendente la corona di gloria nel cielo come notava il dotto formigao il bacillo di cocco consumava il povero corpo di giacinta che doveva soffrire terribilmente però la sua sete di sacrificio non diminuiva affatto la piccina contrario portava il suo sforzo fino all'estremo per mortificarsi solo quando non ne poteva più diminuiva gli esercizi della sua ascesi quando sono sola confidava lucia esco dal letto per citare le preghiere dell'angelo ma ora non sono più capace di piegarmi con la testa al suolo perché cado prego restando in ginocchio lucia non rispondeva ma alla prima occasione in cui si trovò col padre faustino ferreira vicario di olival gli rivelò tutto il prudente sacerdote mandò allora a dire alla piccola martire che poteva pregare rimanendo a letto giacché non era necessario scendere e gesù sarà contento domandava ansiosa la bambina si assicurava la cugina gesù vuole che si faccia ciò che ordina il signor vicario allora non scenderò più durante le giornate fredde dell'autunno i genitori non permettevano a giacinta di andare alla cova dei ria che dista circa due chilometri da ali ustrel non le proibivano però di andare alla messa in fatima lontana un chilometro anche nei giorni feriali non venire giacinta le diceva lucia tu non puoi oggi non è domenica non importa rispondeva la fanciulla che sentiva una vera attrazione per gesù nascosto vado per i peccatori che non ci vanno la domenica tornando disfatta dalla chiesa andava a sedersi sul letto nell'inverno avanzato non potè più uscire di casa lucia allora passava lunghe ore vicino a lei con la cugina giacinta non aveva segreti le parlava delle sue mortificazioni dei suoi sacrifici che erano sempre pochi per consolare i cuori di gesù e di maria sai gesù è triste la madonna ci disse di non offenderlo più perché era già molto offeso nessuno ci fa caso e si continua a fare i medesimi peccati le numerava allora tutte le occasioni che nel giorno e nella notte le si erano offerte per riparare tanti oltraggi avevo molta sete ma non voglio bere lo fria gesù per i peccatori stanotte provavo molti dolori e voglio offrire gesù sacrificio di non girarmi nel letto per questo non potei dormire e tu lucia hai fatto oggi qualche sacrificio talvolta però la natura della povera martire si ribellava senza che la volesse contro l'amarezza del calice di dolori un giorno racconta lucia la mamma le portò una tazza di latte e disse di prenderlo non lo voglio mamma rispose allontanando con la mano la tazza ma zia insiste poi si allontanò dicendo non so più cosa fare per farle prendere qualche cosa quando fumo sole le dissi come disobbedisci così alla mamma e non offri questo sacrificio a gesù a sentir questo lasciò cadere alcune lacrime che io ebbi la fortuna di asciugare disse non ci avevo pensato chiamò la mamma le chiese perdono e le disse di essere disposta a prendere tutto ciò che le avrebbe dato la mamma riportò la chicchera di latte ed essa lo prese senza dimostrare ripugnanza poi mi disse se tu sapessi quanto mi è costato la sua volontà però o meglio il suo amore al cuore immacolato di maria trionfava sempre giacinta non dimenticherà più le lezioni della cugina ogni volta mi costa assai prendere il latte ed il brodo caldo le confidava ma non dico nulla prendo tutto per amore di gesù e del cuore immacolato di maria la nostra mammina del cielo e quando la mamma le porterà insieme con latte un bel grappolo d'uva affinché scelga la piccola sceglierà il latte no mamma l'uva non la voglio porta la via dammi il latte e ritiratasi la mamma disse a lucia mi faceva gola quell'uva e mi costò molto prendere il latte ma voglio offrire questo sacrificio a gesù lucia si comunicava con una certa frequenza e al ritorno dalla chiesa faceva una visitina alla sua ammalata che le domandava affabilmente lucia ti sei comunicata oggi allora vienimi vicino perché tu hai nel cuore gesù nascosto non so come sia sento gesù dentro di me comprendo ciò che mi dice senza che lo veda o lo oda ma è tanto bello stare con lui lucia allora prendeva dal libriccino da messa un'immaginetta con il calice l'ostia e giacinta la baciava con trasporto è gesù nascosto lo amo tanto o se potessi riceverlo in chiesa in cielo non si fa la comunione se la si farà la comunione io mi comunicherò tutti i giorni o se l'angelo fosse venuto all'ospedale a portarmi un'altra volta la comunione come sarei rimasta contenta una volta la cugina le presentò un'immagine del sacro cuore di gesù benché non la trovasse affatto somigliante al suo gesù tanto bello la teneva sempre con sé la nascondeva di notte sotto il cuscino e la baciava spesso lo bacio sul cuore diceva che è quello che più amo potesse avere anche un cuore di maria non l'hai mi piacerebbe averli tutti e due insieme il cuore immacolato di maria era la passione della piccola apostola mi manca poco per andare in cielo confidava alla cugina tu resti qui per dire a tutti che dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di maria quando dovrei dire questo non esitare dillo a tutta la gente che dio concedere grazie per mezzo del cuore immacolato di maria che le chiedano a lei che il cuore di gesù vuole che assieme al suo si venere il cuore immacolato di maria domandino la pace al cuore immacolato di maria perché dio la fidò a lei se potessi mettere nel cuore di tutti il fuoco che ho qui nel petto che mi brucia e mi fa amare tanto il cuore di gesù ed il cuore di maria non era l'ardore della febbre che consumava l'angelica creatura era il fuoco dell'amore la sete della riparazione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti